Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi dal telegiornale la dedichiamo all'incontro promosso dal procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Gela, Lucia Lotti. Il magistrato dopo 8 anni di servizio in città lascia per trasferirsi a Roma. Ritorna nella capitale dove ha lavorato per ben 17 anni. Vediamo. Dallo 2008 Gela, capo della procura della Repubblica del Tribunale, Lucia Lotti, originale di Firenze, lascia per un nuovo incarico. Sarà il procuratore aggiunto di Roma. Ritorna nella capitale dove per 17 anni ha svolto incarichi importanti alla direzione distrettuale antimafia con una specializzazione elevata nella materia dell'usura, del traffico internazionale di droga e della criminalità organizzata. Lucia Lotti è in magistratura dal 1981. Dal marzo del 1983 all'ottobre del 1986 è stato operatore a Monza. Dall'ottobre del 1986 all'ottobre del 1989 identico incarico lo ha svolto a Rieti. Dall'ottobre del 1989 al gennaio del 1998 ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore alla procura della Repubblica presso l'apertura circondariale di Roma, salvo il periodo di applicazione extra distrettuale dal 1995 al 1996 presso la procura di Milano. Dal gennaio del 1998 è stato sostituto procuratore al Tribunale di Roma e dal dicembre del 1999 è stata assegnata alla direzione distrettuale antimafia della capitale. Lucia Lotti nella città del Golfo si è ambientata perfettamente e questa mattina durante l'incontro con i giornalisti si è commossa ogni qualvolta ha parlato di Gela. Dopo tre anni dal suo insediamento, così come prevede il regolamento, avrebbe potuto chiedere il trasferimento, ma non l'ha fatto. Gela ha detto è straordinaria. Il procuratore Lotti è stato un punto di riferimento, ha svolto con immensa bregazione il suo lavoro grazie al proficuo contributo delle persone che le sono state accanto, dai rappresentanti delle forze dell'ordine ai giudici del Tribunale. E' sempre stata al fianco dei cittadini e degli studenti. Proprio in occasione della giornata internazionale delle donne dello scorso 8 marzo, un'intera classe del plesso Paolo Emiliani Giudici ha indicato in lei il personaggio femminile della città. Numerose le inchieste che portano la sua firma, da quella sull'inquinamento ambientale a quella sul disastro innominato che vede alla sbarra 22 indagati, tra i quali altri dirigenti della raffineria Eni. Dal contrasto dello spaccio di droga al fenomeno della racket, delle estorsioni e dell'usura. Tanti i procedimenti che hanno portato poi alla condanna degli imputati. In merito proprio al procedimento giudiziario contro i 22 funzionari del gruppo Eni, la procura ha chiuso le indagini che riguardano un periodo di quasi 10 anni. Le attività di bonifica non sono state mai realizzate con il conseguente disastro ambientale. Un materiale di indagine enorme, come ha sottolineato lo stesso procuratore, in grado di assorbire anche sentenze già passate in giudicato. A breve sarà fissata la relativa udienza preliminare. Un lavoro immane che, ha ribadito Lucianotti, risponde alle sollecitazioni che continuano ad arrivare dalla città. E a Roma, Lucianotti porterà Gela nel cuore. Sentiamo proprio il magistrato ai nostri microfoni. Avrebbe potuto chiedere anche il trasferimento dopo i primi tre anni, non l'ha chiesto perché lei si è innamorata fortemente di Gela. E a Gela lascia un ricordo indelebile. Io spero di lasciare un buon lavoro, il segno di un impegno. Certamente si pensa sempre che si sarebbe potuto fare di più, che avrei potuto fare di più. Però abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Qual è stata l'emergenza più importante che lei in questi otto anni ha affrontato a Gela? Non si può dire un'emergenza. Purtroppo Gela, come mi capita di dire, subisce il fatto che la storia sembra essere passata come un rullo compressore sulla città. Ha vissuto tante traversie, ha affrontato tanti problemi. E chiaramente anche in questi anni abbiamo visto che questi problemi erano ancora presenti, reali. Il problema della criminalità diffusa, il problema delle violenze che comunque riguardano le persone, le problematiche ambientali, la pubblica amministrazione, i reati economici. È chiaro che ci dobbiamo occupare di tante emergenze purtroppo. Otto anni fa, quando le comunicarono che sarebbe venuto a Gela, il suo primo pensiero quale fu? Di grande curiosità. Io non ho vissuto nessuna frattura tra la mia esperienza lavorativa precedente e la mia esperienza a Gela. Mi sono sintonizzata in modo, direi, molto rapido con questa realtà, anche perché è una realtà vivace, una realtà che reattiva. E' un contesto complesso, ma di grande interesse e dove ho trovato delle grandi professionalità. E cosa porterà a Roma? Gela nel cuore? Ma questo assolutamente, credo che sia un'esperienza assolutamente irripetibile, vissuta intensamente, con i limiti umani, però, ecco, ripeto, vissuta con grande impegno e con grande partecipazione. Gela è una realtà che purtroppo ancora oggi subisce oltremisura i danni di un cliché che è attestato su periodi storici diversi. Deve continuare nell'impegno. In questo momento non è certamente un momento brillante per la città. Ci sono tanti problemi, ci sono tante preoccupazioni e ci sono anche tanti rischi, però bisogna impegnarsi. Ecco, io mi auguro che questo impegno collettivo da parte del contesto gelese ci sia che riesca a trovare delle vie che la proiettino verso lo sviluppo, verso un futuro che mantenga saldo questa realtà che secondo me è molto intensa e molto propulsiva. Certamente il compito dell'istituzione giudiziaria è quello di rimanere saldo sul territorio, quindi il fatto che io mi trasferisca, perché è fisiologico, noi più di otto anni nel ruolo direttivo non possiamo rimanere, non deve significare nulla in termini proprio di forza della presenza dell'istituzione. Un oggettivo e una conclusione per identificare i gelesi? Complessi, complessi, però reattivi, però intelligenti. Un operaio rumeno di 41 anni, residente a Ravanusa, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica di Egrigento e di Gela. L'uomo è ritenuto responsabile di violenza sessuale ed atti sessuali con un minorenne. A conclusione di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Egrigento e successivamente dalla Procura di Gela, territorialmente competente, i militari dell'arma hanno accertato che il 41enne pregiudicato dal mese di settembre 2012 al maggio del 2014 a Mazzarino, luogo in cui risiedeva fino a qualche anno addietro e successivamente a Ravanusa, aveva in più occasioni indotto e costretto un minore di 16 anni a compiere atti sessuali contro la sua volontà, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del 16enne. L'evasione dagli arresti domiciliari, furto, omissione di soccorso, fuga da sinistro stradale con feriti, resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale. Sono le accuse alle quali dovrà rispondere il cittadino rumeno di 28 anni, arrestato dalla polizia di Gela. Si tratta di Stefano Bogdan Vladeanu. Ieri sera, nel corso di un intervento degli agenti, in seguito ad un sinistro sulla statale 115 Gela Vittoria, è stato individuato il responsabile dell'incidente, datosi alla fuga a seguito dell'urto con un'auto che sopraggiungeva in senso di marcia a posto. Dopo aver invaso la corsia a velocità sostenuta, il rumeno, già segnalato in passato per fatti analoghi ed attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in provincia di Catania, si è allontanato precipitosamente dal luogo dell'impatto tra le due macchine, abbandonando il proprio mezzo al centro della carreggiata, nell'attentativo di dileguarsi senza manifestare il minimo interesse verso lo stato di salute della controparte coinvolta, un dipendente Eni di 44 anni che stava rincasando a Vittoria. Ricercato in seguito all'evasione dal proprio domicilio presso il quale stava scontando la misura degli arresti domiciliari, il malvivente aveva commesso il furto della stessa autovettura con la quale ha causato il gravissimo incidente, ponendosi alla guida senza alcun titolo idoneo e sotto l'effetto dell'alcol. Il cittadino rumeno, subito dopo l'impatto, come dicevamo, si è dato a precipitosa fuga, ma il personale della volante 113, ben a tre pattuglie, oltre a rilevare l'incidente e avendo compreso la gravità trafatto, è riuscito ad individuare l'uomo che malgrado il fortissimo impatto aveva quasi raggiunto un locale che si trova nei pressi del luogo teatro dell'evento per eludere i controlli. Prontamente bloccato ed in evidente stato di brezza, il rumeno si è scagliato contro gli operatori di polizia, minacciandoli e causando loro lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Dopo le formalità di rito, Stefan Bogdan Vladeanu è stato arrestato e tradotto nel carcere di Contrada Balate a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Lara Secaccini. Continuano i controlli di polizia non aria e stradale eseguiti dal coordinamento Interforze della Polizia Municipale di Gela e della sezione radiomobile dei Carabinieri. Negli ultimi due giorni sono stati eseguiti ulteriori controlli al mercato settimanale ed in tutto il territorio urbano per prevenire e reprimere condotte illecite riscontrate nell'esercizio del commercio ambulante e nella conduzione indisciplinata di ciclomotori e motocicli. Sequestrate 35 paia di scarpe, una persona è stata deferita all'autorità giudiziaria per vendita di prodotti con marchi contraffatti, 14 verbali elevati per occupazione abusiva di solo pubblico, 9 ciclomotori sottoposti a fermo amministrativo per il mancato uso del casco, 4 verbali elevati per mancata revisione dei veicoli, un veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione e 5 verbali elevati per altre violazioni al codice della strada. L'omicidio stradale legge. Dopo 5 passaggi parlamentari e 2 voti di fiducia, lo scorso 2 marzo il Senato, con 149 sì, 3 no e 15 astenuti, ha approvato il disegno di legge che introduce, dopo anni di dibattiti e battaglie dei familiari delle vittime della strada, il reato di omicidio stradale. In asprimento delle pene per i pirati della strada, con la previsione del carcere sino a 20 anni, con le aggravanti per chi fugge, obbligo di arresto in fragranza per chi alla guida, ubriaco sotto l'effetto di stupefacenti, provochi un incidente mortale, sono alcune delle novità introdotte dalla legge. Cambia molto dal punto di vista etico e morale. In sintesi cambia molto dal punto di vista della civiltà del nostro paese. È chiaro che se è sempre pensato, se ne è discusso tanto, di questa trasformazione dell'illecito amministrativo, in reato, quindi nell'ambito proprio del codice penale, è chiaro che chi guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, nella logica giuridica, è una persona che sa comunque, che guida in una condizione assolutamente alterata, quindi nella sintesi si accolla, diciamo così, il rischio delle conseguenze. Già questo giuridicamente definisce quello che si chiama dolo eventuale, cioè proprio la consapevolezza dell'acquisizione del rischio della propria azione. Quindi è da tempo che si auspica questo passaggio tra una responsabilità prettamente amministrativa verso una responsabilità di tipo chiaramente penale, che è quello che l'Europa, peraltro, dove questo reato esiste ormai da tempo, comunque auspica. Quindi direi che cambia molto, nel senso che giuridicamente cambia proprio la definizione. Cioè c'è un passaggio, non è più un ambito amministrativo, ma un ambito prettamente penale, dove la persona viene perseguita semplicemente perché sa di guidare in una condizione alterata, quindi si accolla il rischio della propria scelta. E questo giuridicamente si chiama dolo eventuale, che è un dolo di primo grado. Quindi cambia proprio molto, c'è un passaggio, diciamo, dalle leggi amministrative al codice penale. Cambia soprattutto però molto dal punto di vista della civiltà, perché così le persone comprenderanno finalmente che non ci si può mettere alla guida in queste condizioni, non soltanto per una scelta di cautela della propria vita, che poi ognuno è responsabile per sé, ma soprattutto per il rischio e per le conseguenze che generano nei confronti degli altri, che sono assolutamente, come dire, estranei a questa condizione. La pagina politica. Il consigliere comunale, Romina Morselli, aderisce all'area DEM del Partito Democratico. Lo hanno annunciato lo stesso consigliere del capogruppo del PD, Enzo Cirignotta. Un'area in cui il consigliere si rivede in quanto di ispirazione cattolica, popolare, molto vicina alle posizioni della propria estrazione politica e culturale. La decisione è stata preceduta da una serie di incontri con l'onorevole Giuseppe Lupo, vicepresidente all'ARS e leader in Sicilia dell'area DEM, ma anche a seguito di un percorso politico già avviato lo scorso anno in occasione delle elezioni amministrative con il capogruppo Enzo Cirignotta, già appartenente all'area DEM, assieme al componente della direzione del PD, Giacomo Gulizzi. L'obiettivo è quello di un rafforzamento di quest'area moderata all'interno del Partito Democratico. Oggi, alle 16.30, nel centro polivalente Michele Abbate, in via Averna 234, la Caltanissetta, il deputato regionale del PD, il giulese Giuseppe Arancio, assieme all'assessore regionale all'agricoltura, Antonello Cracolici, presenteranno il programma di sviluppo rurale 2014-2020, che contiene le nuove misure a sostegno dell'agricoltura siciliana. L'iniziativa sarà moderata dal segretario provinciale del PD, Giuseppe Gallè. Il tempo è scaduto e riparte la mobilitazione. La politica ci dia delle risposte immediate o sarà di nuovo sciopero. Questo il grido di protesta dei dipendenti dell'ex provincia che si sono riuniti nell'Aula Consiliare dell'Ente, non ancora Libero Consorzio Comunale. Un'assemblea sindacale di due ore in tutte le sedi provinciali siciliane per discutere delle conseguenze che potrebbero verificarsi, qualora non venisse ancora approvato il disegno di legge, esitato nel dicembre scorso dalla prima commissione per l'esame da parte dell'Aula, ma non ancora approvato all'ARS. Ripercussioni in termini di occupazione, ma anche e soprattutto mancata erogazione di servizi per i cittadini, sono alcune delle criticità affrontate dalle segreterie provinciali dei sindacati di Caltanissetta durante l'Assemblea. Non può essere sopportato dal territorio perché non sono soldi che vengono tolti ai dipendenti per il loro stipendio, sono soldi che vanno tolti all'economia della città e della provincia, le nostre strade provinciali sono un colabbrodo, le nostre scuole sono molte di esse pericolose, delle volte restano senza riscaldamento. Se continuiamo così, fra dieci anni, non avremo manco la possibilità di ripristinarle, dovremo costruirle ex novo con un costo assolutamente enorme per la città, per il territorio, per i cittadini. Cioè è un grido di allarme che non investe soltanto appunto il problema occupazionale, ma che investe l'economia del territorio. Se ci vogliono fare morire, ce lo dicano, ma poi non è manco possibile che noi, fatta la finanziaria in Sicilia, si deva andare con il cappello in mano a Roma per chiedere i 500 milioni che sono della Sicilia. Noi chiediamo alla politica di unirsi a noi e di andare insieme a Roma e comunque di fare la legge. La legge è pronta. Soltanto delle beghe politiche fra diversi gruppi parlamentari noi riteniamo sia il problema. La situazione di diabetici Eschilo di Gela, presieduta da Giacomo Curatolo, in collaborazione con il CESVOP, organizzano per oggi pomeriggio alle 17 un convegno dal titolo La riabilitazione cardiovascolare del paziente diabetico e cardiopatico presso l'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'introduzione e il coordinamento degli interventi del convegno è stato affidato al pediatra Cristoforo Cocchiara. Relazioneranno il diabetologo Rocco Gibilras, il cardiologo Erminio Spadaro, la psicologa Nuccia Morselli. Concluderà i lavori Walter Micichè, specialista in attività motorie. Tappa gelese per Un Santo Senza Parola è il film dedicato alla straordinaria vita di San Felice da Nicosia, firmato dalla regista nisseno Toni Gangitano. La pellicola racconta la vita delle frate Capuccino Nicosiano, vissuto nel Settecento, beatificato il 12 febbraio del 1888 da Papa Leone XII e canonizzato il 23 ottobre 2005 da Papa Benedetto XVI, venerato per i suoi miracoli e per la sua forte testimonianza di fede. Gli alunni della scuola Enrico Mattei di Gela, diretta da Agata Gueli, domani alle 9.30, assisteranno alla proiezione del film presso il multicinema Hollywood. Al termine della proiezione, le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Mattei avranno la possibilità di porre domande sul film, di dialogare con il regista Toni Gangitano e con l'attore protagonista Angelo Maria Sferrazza. Sarà presente anche Salvo Milazzo, componente della produzione. Nei giorni precedenti alla proiezione, gli alunni dell'Istituto Mattei, attraverso una didattica laboratoriale, avranno modo di conoscere e approfondire i molteplici peculiari aspetti della produzione e della realizzazione di un film. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, è prevista per domani alle 17 nei locali della libreria Mondadori di Via Marconi 25 a Gela, la presentazione del libro Fiammetta di Emanuela Abbadessa. Dialogherà con l'autrice, il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Nel corso dell'incontro si darà anche una degustazione di dolci offerta. Dalla ditta Alaimo di Delia. E sabato 12 marzo, alle 18, sempre nei locali della libreria, sarà presentato il libro L'Opera dei Pupi di Gabriele Cantella. Dialogherà con l'autore, il giornalista Andrea Cassisi. È previsto l'intervento dell'avvocato Dario Federico. Si chiama Le sorprese del divorzio. Si tratta della rappresentazione teatrale prevista per sabato 19 marzo all'Eschilo di Gela. Fabiola Polara ne ha parlato con i protagonisti della rassegna. Torna in scena la rassegna organizzata dall'Associazione Demetra. Appuntamento per il 19 marzo, alle 21. Che cosa andrà in scena? Andrà in scena un lavoro comico che sta raccogliendo molti consensi in giro per la Sicilia. sta vincendo dei festival e quindi per questo non l'abbiamo selezionato e si chiama Le sorprese del divorzio di Mars e Bissonne, due autori francesi del Vaudetville, del classico teatro di Vaudetville, adattato in italiano con la regia di Isaia, che è una ragazza, una delle componenti della compagnia Liotro di Catania. Quindi una bella realtà che con oltre 40 anni di teatro che viene per la prima volta a Gela e che porterà quindi questo lavoro che è molto frizzante perché parla di un menace familiare dove si inserirà una suocera e quindi insomma fino alla fine ci saranno delle buttade incredibili. In tempo di crisi dedicare qualche momento ad una risata è molto importante ma ancora più importante incentivare la cultura voi l'avete fatto fondando questa associazione nuova. Sì, sicuramente. Noi infatti ci teniamo in particolar modo proprio in questo momento così particolare invitiamo proprio la gente a ritagliarsi quel piccolo spazio che non servirà sicuramente a poter in qualche modo lenire i problemi ma sicuramente offriremo un piccolo ritaglio dove ci saranno delle risate una serata simpatica sicuramente. Rinnoviamo allora ancora una volta all'appuntamento tutti gli amici che volessero venire a vedervi come e dove possono trovarvi? Possono trovarci al Teatro Esquilo il 19 di marzo sabato alle ore 21 con questa commedia che rientra nella rassegna sabato teatro quindi venite a trovarci ci sarà grande possibilità di posti quindi pensiamo ecco che anche fino alla ultima fila si vede bene si sente bene quindi venite a trascorrere due ore di spensieratezza. Sbigliettamento disponibile al botteghino fino all'ultimo momento? Certo noi stiamo facendo una sorta di prevendita però ecco sarà disponibile fino all'ultimo momento 10 euro l'ingresso 5 euro il ridotto quindi venite a trovarci ci sarà anche una piccola sorpresa con una sì alla fine con una degustazione di una cantina Quignones di Licata quindi anche per questo motivo venite a gustarvi un buon vino. La formazione Juniores del Machitella Gela vince la fase provinciale del campionato e passa alle regionali con le migliori siciliane. Il pareggio a Ravanusa per 1-1 ottenuto con la rete di Rosario Tube ha siglato il lancio dell'undici gelese verso le fasi successive e più prestigiose che vedranno scontrarsi le vincenti dei vari gironi siciliani. La squadra è composta da ragazzi impegnati non solo nei campionati giovanili ma anche nell'impegnativa promozione e che giocando due volte a settimana maturano esperienza confrontandosi anche con calciatori navigati della Sicilia. E adesso parliamo di pallacanestro con l'appuntamento dedicato ai giovani che si terrà domenica prossima al Palacossiga di Gela. Sarà il Palacossiga di Contrada Marchitello a Gela ad ospitare domenica prossima la fase regionale 3 contro 3 di Join the Game un appuntamento fortemente voluto dalle società gestistiche presenti sul territorio e che vedrà la partecipazione di numerosi atleti. L'inizio delle gare è previsto per le 9. Domenica prossima il giorno 13 ci sarà un altro incontro cioè la finale regionale di Join the Game è la prima volta che viene disputata a Gela ci saranno sono in tutto 10 52 squadre che rappresenteranno tutte le società vincente le fasi provinciali più le secondi dal quale provincia e in qualche altra anche le terze di Gela è il centro dell'attività sportiva di pallacanestro siciliana. Dottor Bernardo come si svilupperà la giornata di domenica prossima? Ci saranno questi incontri per le categorie under 13 e under 14 i vincitori andranno a fare poi attraverso varie fasi successive le finali nazionali di Jesolo quindi capite l'attenzione che la federazione regionale e nazionale nutrono nei confronti di questo territorio che è sempre all'avanguardia per quanto riguarda il settore giovanile e lo sviluppo dei settori giovanili stiamo lavorando bene sia dal punto di vista tecnico che proprio dal punto di vista organizzativo speriamo che sia una grandissima giornata di sport come è stata anche quella precedente della passata settimana noi siamo pronti l'organizzazione non deluderà sicuramente i vertici della federazione che in questa giornata saranno qui Antonio Romano dov'era perduto prosceni importanti ci riferiamo alla Valacanestro è chiaro che il basket a Gela riparte dai più piccini e da qualche anno che purtroppo a Gela manca una squadra di serie superiore quando se il basket è scomparso dalla vetrina le altre società cercano di lottare per stare a galla per disputare i cambianti a certi livelli ci vogliono i soldini non sono più sponsor le amministrazioni comunali provinciali regionali sono scomparse quindi tutto quello che viene fatto viene fatto con sacrificio personale da parte degli operatori del campo comunque nonostante che manchino queste squadre grosse squadre senior c'è un'intensa attività giovanile che in tutte le società basca di scuola studentesca lì di Al Gela e anche a Caltanese sono delle società che lavorano stiamo cercando di avere buoni frutti e chissà domani ricominciare un'attività a certi livelli siamo in conclusione una notizia che riguarda lo spettacolo il cinema e fuoco a mare il film in programmazione al cine teatro antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie e arrivederci a Gela 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 a Gela